Ancora un'altra tragedia sulle strade calabresi. Un uomo di 42 anni, di origini marocchine, è morto dopo essere stato travolto da un'auto sulla 2, autostrada del Mediterraneo, tra gli svincoli di La Mezza Terme e Pizzo, in direzione nord. Secondo una prima ricostruzione, la vittima si era fermata a bordo della propria auto, in una piazzola di sosta, per cause che sono in corso di accertamento, quando, nell'aprire la portiera, è stato travolto da un'altra vettura. Il conducente dell'auto investitrice si è fermato per prestare soccorso e attualmente si trova all'interno degli uffici della Polizia Stradale, dove è sottoposto ad interrogatorio. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso, ma il 42enne, nonostante l'intervento dei sanitari, è deceduto, in seguito ai gravi traumi riportati. A causa dell'incidente, la carreggiata in direzione nord è stata temporaneamente chiusa.